ragazzi ci siamo stiamo andando verso la semifinale di primavera team capo oggi è arrivato quel giorno nello scorso episodio signori abbiamo visto i nostri ragazzi asan e flavio fare molto bene ma soprattutto asan fa la differenza perché da subentrato diciamo che ha aiutato la squadra a passare questo magnifito turno contro la juventus ragazzi una signor primavera e allora ragazzi stiamo andando direzione sassuolo oggi siamo al completo perché siamo tutti quanti forza asan mata forza bravi russo soprattutto forza sassuolo i ragazzi di lister bg sono pronti sono pronti a mangiare il lecce signori e andare a giocarsi la finale nello stadio che conta ovvero nel mapei stadium non succede ma se succede ma se succede sarebbe veramente una cosa incredibile e allora direzione sassuolo stiamo andando allo stadio di enzo ricci speriamo bene per i nostri ragazzi ci diamo dopo per questa magnifica reaction di semifinale in primavera team cap ragazzi ci siamo la situazione è veramente caldissima anzi l'atmosfera è veramente calda lo stadio è pieno signori fuori c'è una coda che arriva fino al parcheggio signori ragazzi lo stadio è pieno è pienissimo ragazzi è veramente pieno e c'è anche la tifoseria del lecce il campo è in condizioni non perfette di più ha piovuto un po anzi ha piovuto molto però ragazzi veramente bello e ragazzi sarà una signor partita e allora andiamo sederci direttamente in postazione e godiamoci questa reaccia di semifinale nella capo ragazzi Sassu! Sassu! Mamma mia ragazzi, primo squillo da parte del Sassuolo, grandissimo tiro di leone. E il Sassuolo c'è signori, il Sassuolo c'è. Un po' di testa veramente pericolosa ragazzi, mamma mia, il Lecce c'è ragazzi, hai iniziato a giocare. Sassuolo, 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 Sassuolo. Mamma mia signori, grandissima occasione per Kevin Bruno, mamma mia. Mamma mia che occasione, sulla testa del difensore del Sassuolo. Grande azione per il Sassuolo ragazzi, grandissima azione. Bravi, 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 bravi. Fini primo tempo ragazzi, 0-0, partita molto molto bloccata. Quest'oggi abbiamo due ragazzi in eccezione. Come avete visto questa partita? Allora io ho notato che il Sassuolo sta attaccando molto più del Lecce, stiamo giocando molto meglio e speriamo la vita. Io ho notato il Juventino. Vabbè, è Sassuolo. Ah, ok, ok. Juve, le Juve, il Sampdoria, non so quanto non dà cosa. Sassuolo. In ogni caso ragazzi, forse Sassuolo, speriamo che vinchano. E Asan fa i gol, mi raccomanda. Asan deve fare i gol, ma anche il nostro carissimo Flavio. Stanno giocando molto molto bene, la partita molto bloccata come ho detto. Ci sono state qualche occasione, soprattutto qualche punizione molto pericolosa per il Lecce. Il Sassuolo deve stare attento perché ha preso veramente tanti gol su punizione. Però noi crediamo nel Sassuolo, quindi speriamo che nel secondo tempo possano fare meglio del primo tempo. E fare un gol, fare un gol, fare un gol, fare un gol. Prima di andare con il secondo tempo, sono qua con tanti giovani. Chi è più forte? Io, 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 io. Io, io, io. Chi è più forte la voglio sfidare l'uno contro uno. Io, io, io. Io, 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 io. Io, 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 io. Io, 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 io. Io, 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 io. E' rosso. No, ragazzi, è rosso! Stavo andando in borda ragazzi! Questo è rosso! Salvatore! Bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! 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 Grazie per la visione!